Guarda quel ragazzino Secondo me è un tipico caso di artrosi sacrale Vuoi scherzare? Quella è una sciatica precoce No, tu sbagli Comunque, è tanto semplice Domandiamoglielo e vediamo chi ha ragione Scusa, ti dispiace dirci una cosa? No Tu hai una sciatica precoce, vero? Sciatica precoce, no Visto? Hai un'artrosi sacrale Artrosi sacrale? No, nemmeno Abbiamo sbagliato tutti e due No, no, a diaverità abbiamo sbagliato tutte e tre Perché? E perché io mi credo che era una scureggia Invece me so cagato sotto Ste banane, oh E meno male che non erano figli d'India